Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 2 perchè sono su Modern Warfare 2 e non su Ghost dato che Ghost è l'ultima rigata in Modern Warfare 2 è un gioco del 1747 secolo perchè MW2 è 27 milioni di volte migliore a Ghost l'ho sempre detto e lo ribadisco per tutti quelli che magari ancora non sanno perchè io continuo a giocare a questo gioco perchè ragazzi MW2 è l'essenza dei Call of Duty quindi quest'oggi andremo a giocare questo videogioco con una classe d'assalto sperando di non trovare una oh 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 sperando di non trovare una partita hackerata perchè purtroppo su sto gioco si trovano solo hackeroni dove ci sono siano 600 player online in tutto il mondo e per fortuna ci sono questi e mi consentono di trovare qualche partita comunque siamo qui oggi per giocare perchè è una partita un po' alla old style dato che nei commenti ogni tanto vedo già più fa un video all'old style su Call of Duty e quindi eccolo qua pronto ad accontentare tutti voi anche perchè poi io ne approfitto perchè MW2 è appunto il mio Call of Duty preferito e quindi non posso che approfittarne mamma mia mi sono scordato a mettere il programmino per il FOV quindi cosa è successo? mi sono scordato oh no cazzo mi sono scordato a mettere il programmino per il FOV quindi ho il FOV tipo ho l'arma appiccicata sullo schermo che mi dà fastidio però facciamo finta di niente e continuiamo a giocare dato che sono comunque stra abituato con il FOV a 90 questo è tipo a 50 è una cosa scena si lanciami le tue granate di merda stronzo no camper diotto madre la metto all'istragiata e me la trombo camper di merda dai dai si prendimi adesso stronzo lorita cazzone di merda ok 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 devo calmare questo gioco mi rende nervoso ragazzi questo gioco mi rende nervoso che già hanno il Predator io pure potevo avere il Predator se non mi ammazzavano a 4 kill si sparami il tuo sniper di merda dai si comunque quest'arma l'M4 è veramente l'arma dei devasti purtroppo non ho ancora il silenziatore perchè il silenziatore è altrettanto devastante gli harrier me l'ha lanciati in bocca praticamente no no oddio aspetta aspetta oh 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 no sporco maiale sporco maiale agli harrier un altro Predator c'è tutto in quel cazzo di cielo un attimino si lanciamelo c'è tutto in questo cielo aspetta aspettiamo un attimino muori tu ok allora vediamo 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 ok un attimino perchè qui dobbiamo essere un attimino tattici non dobbiamo muoverci a cazzo dobbiamo un attimino riflettere su quello che dobbiamo fare perchè oh si oh 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 beccato sulle spalle l'arrier all'arrier sei pregato di cadere sei pregato di cadere arrier schifoso facciamo così no ma dove cazzo l'ho lanciato sono stato un piccolo stupido bambino cretino ok ok facciamo il giro facciamo il giro qua ce ne sarà uno che non so dove sia aspetta aspetta un attimo ok ok facciamo il giro ok 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 qui no 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 io li sto cercando ma non li trovo non li trovo bomba qui ce ne sono ancora ancora sdraiato cioè questa è proprio la sindrome dello sdraio ma che supporto aereo porco no quello mi chiama la nuke fermatelo vi prego dobbiamo andare a trovarlo sarà camperato in qualche mal posto andiamo a vedere lo scoviamo lo scoviamo lo scoviamo lo scoviamo ragazzi io conosco tutti i posti camperosi di questa mappa più o meno e quindi lo voglio trovare un attimino vediamo se lo riusciamo a trovare no che non è qui sarà sicuro intanto che prova a cercare il nemico potrei fare qualche uccisione mori perfetto perfetto tu guarda come vi esci dall'angolo brutto sporco bastardo mi sciottero tutti ma cos'è questo schifo ok ok dobbiamo riprendere in mano la situazione che qui stiamo vincendo perché dobbiamo un attimino riprenderci uno due oh poi dai manca il terzo dato che sono tutti qua dentro ancora sdraiato non ci credo è ancora quello guardate mi ha sparato mi ha ucciso pure non mirando è propriamente tu non devi giocare a call of duty te ne devi andare a fare e muori adesso pezzo di merda ok ok qua ci sono altri eh si si è ancora sdraiato ma ma mi sdraio tua madre veramente questo video lo chiamo io mi sdraio tua madre perché non è giusto non è eticamente giusto che tu devi stare camperato e sdraiato per tutta la partita cioè dovunque ti trovo sei sdraiato dai dillo che sei sdraiato dillo brutto figlio di puttana è sdraiato ok ok allora calma il sangue è freddo in questo videogioco lanciamo vaffanculo buchiamo i materassi aspetta che qua sotto ci dovrebbe essere qualcuno arca puttana dai no da dietro dai sei sdraiato no perché ormai qua si sdraiano tutti cioè io scendo e vengo shottato da uno sniper ah sei qua dentro sono sparato per tua sfortuna uuuuh uuuuh ciao pezzo di merda suca ah 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 ok 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 ottimo ottimo brutto bastardo no si sparate sto sparando oh cristo dio aspetta veniamo mi sdrai anch'io adesso mi sdrai anch'io adesso orco due mi è spuntato come una setta no ma dai abbiamo vinto vaffanculo ho fatto 20-13 non male ma sono morto 27 volte cioè 13 volte solo per le persone sdraiate quindi ragazzi questo era video su Call of Duty Modern Warfare 2 tanto per staccare dalla subito in questo periodo sto tentando di portarvi più giochi possibili sul canale già da lunedì avrete un altro gioco che non avete mai visto poi martedì un altro quindi sto tentando di variare al massimo nei videogiochi quindi big like for this jumpy tech and bye bye ciao Ciao